Slittano ancora i lavori definitivi su Ponte Vezola, assessore di Giovan Giacomo, venerdì scorso l'ultimo incontro con l'ANAS che ha confermato che non inizieranno prima di due mesi. Sì, sono lavori che gestiscono completamente l'ANAS, è uscita anche oggi la notizia sui giornali che ci sono grosse difficoltà dell'ANAS su disposizioni governative per pagare le ditte che eseguono i lavori in tutta Italia, riguarda anche il cantiere nostro Terramano, dunque la ditta che abbiamo incontrato venerdì insieme al direttore dei lavori dell'ANAS ci ha rappresentato l'esigenza di un attimino di rallentare i lavori perché hanno problemi nel pagare e giustamente le ditte non possono lavorare senza stati avanzamenti dei lavori pagati. Dunque stanno lavorando adesso rifinendo la zona di Civitella, lavorano a basso regime sul Ponte Vezola secondo il cronoprogramma che hanno rimesso loro entro dicembre dovrebbero completare le opere marginali al Ponte per poi chiudere dopo le feste natalizie. Dunque purtroppo noi siamo legati a quelle che sono le disposizioni dell'ANAS e la ditta che sta eseguendo i lavori. Le polemiche più che altro vengono dai residenti e dai commercianti. Sì, il Ponte attualmente è aperto a senso unico alternato, sicuramente qualche disagio sia per la cittadinanza che per i commercianti c'è noi volevamo chiudere come era previsto nel periodo estivo per creare meno difficoltà e meno problematiche soprattutto ai commercianti, purtroppo questo non è avvenuto, speriamo che sia a gennaio la data giusta per poter chiudere in due mesi e poi completare i lavori.